Allora domanda, come va a spiegare questa resistenza ai virus? Dai dimmelo, come te la spieghi? Ecco lo saccio io Te lo dico io che c'ho l'anticorpi che controcoglioni Ma magari mi venisse l'Aiz a Stereo Hondure, io ne so, ai 10 e mezzo A mezzogiorno e mezzo ho sventrato, dai A comparsa io Io sono regolarmente iscritto al collocamento come stuntman All'occorrenza a 12 scene pericolose E quando dico pericolose mi riferisco a scena dei groghi Inabbissamenti, terremoti, sismi, stupri, tutti E ricordati il detto Parigi, va bene una messa Guarda che l'idea che il look dello straccio intorno alla testa Modestamente prima di stallone ce l'ho avuta io Io perché soppone Se no veramente potrei sul serio citare a Silvestre per danni O rimando veramente a farcela dare a New York Tutto quello che fai, che dici e che pensi È il tuo avvocato che te lo suggerisce E vedrai che la tua vita cambierà da così a così Oddio la milza Oddio, 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 ma rovinato Pia degli attacchi, lo mandate via Oddio, oddio, che dolore Questo era un lavatoio Poi io l'ho ristrutturato a superattico, vedi? Perché io copro? È un animale violento che colpisce a freddo Fulminio, insomma, come me, perché io so uno da toccata e fuga Che fai, copriti Che ti importa, dai Ma copriti, chi sei scema, ci facciamo a restacqua Spogliti anche tu Come on, come on Vabbè, ma allora che devo fare? Chiude il tercesto e la fa più usci da casa Ok, avvocato, io faccio quello che mi dice lei Ok, ma convinto Ok Ma ci sarà travidare se sta avvocato Io firmo Guarda che te me conosci sotto un aspetto solo Mentre io invece ce ne ho arpi 170, capito? Grazie a tutti